bene intanto buongiorno a tutti chi sono così cominciamo da questo e io lavoro in un'agenzia investigativa di conseguenza come come per questo motivo mi occupo anche di investigazioni digitali da non confondere con le con la forensics invece quindi la digital forensics e sono appassionato di sicurezza informatica che studio scrivo per una rivista online collaboro con la cattedra di informatica giuridica di milano e ho fatto diciamo il sistemista e tecnico per circa una ventina d'anni quello che sono qua a fare oggi è invece portarvi in un cammino che vi possa spiegare che vi possa far comprendere quello che è l'osint quindi l'open source intelligence e e quali strumenti l'open source intelligence utilizza per arrivare alle informazioni delle persone e vedremo anche poi i tipici errori degli utenti online il talk infatti il titolo è cosa la rete sa di noi l'imprudenza dell'utente di cosa parleremo vedremo l'osint quindi che altro che non è che l'acronimo di open source intelligence gli strumenti le tecniche ma soprattutto quello che è il pericolo più grosso per chi si occupa di informatica che è il fattore umano calil gibran un filosofo poeta libanese scrisse una volta questo se riveli al vento i tuoi segreti non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi si intuisce immediatamente cosa ciò significa e questa è anche la frase riportata all'inizio di un manuale esplorare internet di leoni da ritano che è il presidente dell'associazione di giornalismo investigativo e che consiglio tra l'altro a chi di voi fosse interessato all'open source intelligence e si definisce anche il primo manuale proprio sull'open source intelligence molto complesso poi ci sono una serie di altri documenti nella rete ma come manuale in cui è riepilogato anche alcune cose le ho prese proprio da là è sicuramente un ottimo un ottimo manuale inquadriamo il problema sul web dati personali a rischio il cybercrime vale 500 milioni considerate che cybercrime è aumentato il 30 per cento quest'anno rispetto all'anno scorso bene prima di parlare di open source intelligence facciamo un passino indietro cos'è cioè quali sono le fasi le cinque fasi di norma che si attuano in una procedura di intelligence no in un'attività di intelligence c'è l'humint lo human intelligence è un'attività che è diciamo utile per scusate ho preso qualche appunto per la gestione della rete di informatori umani quindi gli informatori che fanno intelligence poi appunto la gestione di questi informatori quindi le notizie che ci portano si chiama attività di humint poi c'è il sigint il sigint invece si occupa dell'intercettazione delle comunicazioni limit è dall'elaborazione e analisi di immagini presi dai satelliti dagli aerei spia e ormai ultimamente dai droni lo vedremo tra poco è l'open source intelligence quindi tutte quelle attività rivolte a prendere informazioni dalle reti diciamo aperte dalle pubbliche reti il masint come quinta fase dell'intelligence è si occupa di analizzare le firme chimiche spettografiche radiologiche di sistemi d'arma e vettori che possono nuocere alla sicurezza nazionale inquadrato quello che sono le fa inquadrate quelle sono le fasi dell'intelligence e quindi adentrandoci in quella che è l'osint l'attività appunto di recupero informazioni dalle fonti aperte vediamo di capire meglio che cos'è è un metodo di investigazione nata in seno ai servizi segreti ed è tra l'altro molto potente tra l'altro diciamo è molto potente perché grazie agli utenti lo sta diventando sempre di più perfino dentro le organizzazioni di intelligence il suo apporto si colloca tra l'80 e il 90 per cento dell'intera raccolta informativa è una metodologia raffinata e complessa che trasforma quindi dei dati e informazioni apparentemente slegati tra di loro e reperiti in qualsiasi ambito della rete quindi compreso il deep web e lo trasforma in un quadro coerente significativo sul piano appunto investigativo tra parentesi ho messo criminale perché come vedremo come vedremo l'osint condivide gli strumenti le tecniche che poi andremo adesso in modo diciamo molto sintetico a vedere condivide con l'hacking con il penetration testing con il giornalismo investigativo con le investigazioni classiche con l'intelligence quelli che sono gli strumenti e le procedure questo serve anche per farci capire che strumenti e tecniche non nascono negativi o positivi ma è l'uso che ne andiamo a fare che li identifica tali per poter definirsi osint un'attività deve avere appunto dei requisiti e quali sono deve utilizzare informazioni non classificate informazioni acquisite in modo lecito quindi no hacking no intercettazioni no spionaggio se vogliamo definirlo osint però le tecniche vengono utilizzate poi anche per attività di altro tipo si utilizzano informazioni di tipo pubblico è un'attività sistematica metodica soggetta valutazione deve essere utile per rispondere a questi acquisiti di intelligence e investigativi e una premessa importantissima da fare che l'osint open source intelligence non va confuso col sistema operativo open source o con tutti quei software che sono open source dove per open source un sistema operativo un software è free l'open source intelligence invece riguarda le fonti pubbliche a cui accediamo e per farlo l'osint prevede anche attività di tipo gratuito ma anche di tipo non gratuito a pagamento vediamo allora quali sono le tecniche molte delle quali sono convinto già anzi sicuramente li conoscete proprio perché le tecniche sono condivise dall'hacking dal penetration testing partiamo dal re dei motori di ricerca google google è se si guarda vediamo se si guarda la fonte ebizma è a circa un miliardo e 600 milioni di visitatori ad agosto 2016 ed è diciamo il più utilizzato motore di ricerca google ha un doppio problema per quanto riguarda la privacy degli utenti e quindi il il le nostre informazioni che restano in rete il primo è che con strumenti di hacking chiamate appunto google hacking o comunque google dork noi andremo a recuperare e recepire informazioni semplicemente facendo delle query sul sul motore di ricerca in più però google con tutti i suoi le sue belle applicazioni cine raccoglie un sacco di informazioni su di noi e quello che molti non pensano è che quando noi ci loggiamo su google per andare a vedere gmail e poi però andiamo a fare delle ricerche oppure usiamo hangout per una una videoconferenza tutte queste cose rimangono in google che poi le utilizzerà e per pubblicità mirata o anche probabilmente chi lo può dire per chissà venderlo a qualche azienda di pubblicità bene vediamo come può essere utile e come utilizzato google per l'attività di osint quanti di voi hanno mai provato a mettere tra virgolette il proprio nome e cognome su google bene vi siete resi conto di cose che inaspettate uno ormai non si ricordava neanche più di aver fatto che compaiono pazzesco per cui i social ormai vengono fuori tutti ma anche anche i singoli tweet che vengono messi associazioni dove uno lavora indirizzi numeri di telefono dagli elenchi le pagine bianche sono fortissime da questo punto di vista i contributi prima a casa ci sono i finanziamenti le gare d'appalto quindi semplicemente mettendo un nome o cognome su google veniamo a sapere tante di quelle cose le tecniche avanzate che vi dicevo tecniche avanzate che altro non sono che query eseguite sul motore di ricerca ma google ma similmente anche ad altri sugli altri che con strumenti e con stringa di caratteri avanzati si vanno a sia a recuperare informazioni su soggetti diciamo persone fisiche o persone giuridiche ma sia anche è molto utilizzato per la fase di penetration testing per capire le vulnerabilità infatti in penetration testing l'utilizzo di google dork è forse una delle delle attività che si fanno sempre su cosa si basano le google dork ne ho messe alcune ma ma ne ce ne sono veramente tante anche in rete si trova tantissima documentazione su questo su caratteri speciali i tipici lore land le virgolette il meno la tilde e l'asterisco dove diciamo quelle forse meno utilizzate sono la tilde per trovare sinonimi diciamo di parole e il meno per togliere dalla query qualche cosa che non vogliamo che compaia nei risultati come invece operatori di ricerca che possono tra l'altro la potenza anche delle google dork e che si possono combinare sia sia caratteri che operatori tra di loro sono quelli che vedete l'in text quindi o l'in text che è un altro operatore ma che riguarda sempre la categoria degli dell'in text tipo o l'in text o osint ci troveremo tutti i documenti che hanno a che fare e hanno la parola osint all'interno in title è qualcosa che invece va a cercare nel tag title della pagina web e di conseguenza quelli che sono i titoli vengono fuori tra l'altro famosissimo è l'index of quindi in title index of vengono fuori tutte le directory che trova insomma google index of mp3 vengono fuori tutte le directory di mp3 quindi questo è molto molto comodo in url in url è spesso utilizzato per trovare diciamo che per l'osint questi esempi ecco non sono molto calzanti sull'in url ad esempio con login.asp o l'admin.php che serve per trovare tutti quei siti che hanno appunto le pagine di login per entrare nella piattaforma e nell'osint l'in url può comunque essere utile perché vogliamo cercare qualcosa esattamente dentro la url di un sito ecco che veniamo veniamo a essere ci viene utile la cache lo dice la parola insomma cosa può servire l'ultima cache registrata da google di un sito il site utilissimo questo per vedere tutti i sottodomini di un dominio quindi che ne so site sito.it mi farà vedere sito.it ma mi farà vedere anche directors.sito.it commerciale.sito.it eccetera ma posso usare anche una parola prima ad esempio contatti site sito.it mi trova quelle pagine del sito.it che ha la parola contatti il file type lo dice il termine mi individua quel tipo di caratteri e quel tipo di tipo di file quindi che ne so file type pdf mi trova tutto quello che è che ha come tipologia di file pdf estensione pdf se io metto già cv file type doc mi trova tutti quelli che sono i file cv.doc le google doc sono potenti perché c'è possibilità di automatizzare le query quindi fare in modo automatico trovarne di già pronte infatti qua ho indicato un sito che probabilmente tanti di voi già conoscono dove se ne trovano a seconda di cosa uno deve fare che ne so username trovare i file degli utenti e delle password allora va lì username e password e ti tira fuori le query da fare combinando caratteri di operatori di ricerca ecco che potenziamo ancora di più lo strumento ho fatto degli esempi sotto o l'intex sindaco di venezia mi trova tutto quello che voglio scoprire che ne so come si chiama il sindaco di venezia non lo so basta questa semplice query mi trova tutte le pagine dove c'è scritto sindaco di venezia sicuramente ci sarà scritto sindaco di venezia pingo pallino no mario rossi file type 2 punti doc mi trova tutti i file doc che hanno mario rossi all'interno il site sito.it meno site director.sito.com and venezia trova tutti i sottodomini del sito.it tranne non me lo fa vedere il director.sito.it qua c'è scritto com ma è it un refuso e end venezia restringe ancora più la ricerca mi fa vedere quelli che hanno a che fare con venezia quindi probabilmente le sedi di venezia piuttosto che del sito.it qua diciamo con qua con questo finiamo quelle che sono le tecniche di google dorking e le tecniche avanzate no di google vi dicevo però che poi c'è anche l'altro lato l'altro aspetto di google che è quello che memorizza nostre informazioni ho preso dei un comodissimo diciamo delle videate comodissime di if magazine dove risintetizza veramente la cosa allora partendo dal fatto che gli utenti online nel mondo sono 3 miliardi 271 e 228 se io uso gmail e google siccome mi sono dovuto registrare per per aprire gmail sempre che se ho fatto l'onesto ho dovuto mettere nome cognome indirizzo data di nascita e quelle quelle informazioni già le ha google sesso età e luogo ma non solo se io uso chrome faccio le mie ricerche youtube piuttosto che maps google saprà dove dove voglio andare in vacanza cosa ascolto cosa mi piace cosa guardo dove lavoro non solo con l'hangout e il calendar google potrebbe sapere con chi parlo con chi sono la chi è la mia rete di contatti da dove quanto tempo parliamo cosa ci scriviamo quindi immaginate shopping e wallet invece ci faranno capire dove facciamo faranno capire anzi a google dove facciamo gli acquisti quanto spendiamo cosa ci piace insomma eccetera vi ho indicato per chi non lo conoscesse un utilissimo motore di ricerca specifico per paese diciamo è una directory di è un elenco di motori di ricerca specifici divisi per zona ma ci sono poi ulteriori filtri che si possono fare quindi che ne so e anche anche in lingua voglio fare una ricerca in giapponese perché sono capace di farlo vado a beccarmi un motore di ricerca giapponese e potrò farlo di solito se no i motori di ricerca no ottimizzano in base a dns in base a altri fattori ottimizzano e localizzano i risultati google se voi anche se non glielo chiedete probabilmente da spesso i risultati solo in italiano se voi volete quelli in inglese dovete andarlo a specificare nella lingua se voi andate direttamente su un sito invece un motore di ricerca che è localizzato in giappone ovviamente scrivete in giapponese sicuramente avete risolto avete superato questo problema foca quanti conoscono già foca qualcuno è questa esatto quella la conosciamo senza bisogno di studiare foca che sta per fingerprinting organization with collected archivis cosa fa è fenomenale per capire dai metadati dei file che trova su un sito quanti computer hanno quali sono le persone che ci lavorano dentro perché voi capite benissimo che se io con word mi faccio il mio file letto lo metto nel serve oppure lo pubblichiamo sul 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 sito e l'ho fatto io verrà fuori il pc questo il pc di antonio fatto da antonio è quando foca cosa fa scarica tutti i file che trova sui siti poi all analizza i metadati me li tira fuori e mi farà vedere in questo caso io ho fatto il foca di end summer camp del sito ha tirato fuori solo due documenti pdf non è riuscito anche analizzando i metadati a capire una mazza né qui gli utenti nelle cartelle nei pc ma vi garantisco io l'ho fatto per il comune di venezia mi ha tirato fuori i sistemi operativi che avevano infatti poi il sorprendente che quante amministrazioni usano ancora windows 98 per esempio e quindi i sistemi operativi i dipendenti che ci lavorano che ci lavoravano dentro le foto interessantissimo per le foto addirittura riesce a definire scusate che ho per le foto riesce a definire al di là che se c'è la localizzazione attiva anche quella ma ma anche il tipo di macchina che ha fatto che ha prodotto o apparecchio insomma device che ha prodotto la foto un altro programmone infatti proprio lì sorvolo perché non servirebbe diciamo due settimane di corso solo per impararli questi qua e maltego maltego in questo caso vedete io ho fatto la query basandosi su che poi maltego allora mentre foca utilizza i motori di ricerca fino a tre utilizza vediamo se è indicato qua in alto vedete qua in alto utilizza google bing e quest'altro qua ex solid e attraverso delle query quindi che fa la ricerca sui siti invece maltego maltego cosa succede maltego utilizza ricerche anche sui dns utilizza ricerche molto complesse su sui target che noi diamo possiamo puntare a una persona ci potrebbe far vedere le mail dove compare questa persona io l'ho fatto sul dominio comune punto venezia punto it facendo solo due tre ricerche numeri di telefono mi ha trovato tutti i numeri di telefono che sul sito comune di venezia sul dominio comunque comune di venezia è riuscito a recuperare ma non solo poi ho chiesto l'e-mail mi è venuto quindi io so già che il comune di venezia c'è l'urp comune di venezia punto iti l'informa handicap comune di venezia le educatori eccetera e l'intranet ho esploso l'intranet e mi ha fatto vedere le macchine con loro ip pubblico che che hanno quindi diciamo che è questo e niente in confronto a quello che può fare malteo sapete benissimo tutti con un semplice uis su un dominio so il nome e cognome del di chi l'ha registrato so dove abita e so l'organizzazione a cui fa capo e so il registrante ci sono dei ci sono recentemente dei dei servizi che quando si va a registrare il dominio permettono di nascondere certe informazioni ma solo per alcuni tipi di dominio alcuni strumenti ma qui ne conoscerete sicuramente più di me domain tools la fa un po da padrone ma ma ce ne sono tantissimi che ti fanno ti sanno dire sia ti fanno sia luis ma sia anche il dns look up ti fanno le traduzioni da un lato dall'altro e quindi recuperare tutte le informazioni che servono per l'osint abbiamo l'aereo che decolla per l'osint è fondamentale la way back machine quanti la conoscono questi a questa è potentissima cioè utilissima perché perché qualcuno mette un'informazione poi la cancella dopo distanza di giorni magari la cancella io posso andare a vedere se tornando indietro con la web machine il sito com'era in quella data in cui presumo l'ha messo aveva pubblicato la cosa e mi trovo esattamente come era il sito un po di tempo fa ovviamente serve appunto per recuperare informazioni di siti o pezzi di essi andate persi oppure cancellate dopo la pubblicazione ho fatto la way back machine sul sito end summer camp e la prima immagine che aveva cioè meglio il primo archivio che aveva la way back machine era quello del 2006 dove tra l'altro infatti abbiamo scoperto lo faceva una sandonà di piave non qui vero così pare chi è così vecchio del del end summer camp che ci può confermare questa cosa vabbè comunque il sito parla chiaro quindi era era l'hanno fatto sicuramente lì va bene ecco vedete semplicemente siamo andati a vedere come era il loro sito nel 2006 qua sfondiamo una porta aperta l'osint vive ormai dei social network vive del di facebook in un modo credibile vive di twitter di linkedin di tutto ma anche tutti gli altri della categoria di google c'è una bellissima bellissima cioè il testo è bello mi piace quella di j ax e fedez che dice vorrei ma non posto e dice una frase che mi ha colto di sorpresa cioè che mi ha mi è piaciuta molto che dice come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su facebook papà che ogni weekend era ubriaco perso e la mamma che lanciava il reggisino ogni concerto queste sono le parole del testo e questo è il minimo che mi preoccupa è il minimo ma vedremo vi farò vedere che si trova di tutto su facebook quindi non è il reggiseno il problema è l'oversharing cioè il fatto di condividere il più di quello che realmente bisognerebbe condividere e perché avviene questo spesso per mancata consapevolezza dei rischi spesso per errore spesso per rabbia odio cioè si scrivono di quelle cose ormai l'odio online è incredibile e dove sono i portali più diciamo che fanno da reggina i social network perché dopo c'è la rete di contatti che propaga l'informazione al giorno d'oggi come vi dicevo l'analisi dei dati contenuti in social network è una fonte inestimabile per l'attività di intelligence nel web dati personali dei soggetti data di nascita quanta gente mette la propria data di nascita su facebook poi vi spiego cosa succede a metterla appartenenza a gruppi associazioni partiti dunque noi abbiamo cominciato a mezzogiorno e mezzo vero sì quindi fino a no un'ora ho io fino all'una e mezzo così abbiamo scritto comunque beh a limite interrompiamo no no io ho da un'ora come durata detto in teoria e l'orientamento religioso il sessuale shodan un altro potentissimo strumento che serve e che è utilissimo per fare osint un caso recentissimo per esempio è stato quello di una mamma che si è allarmata dopo venuto fuori l'articolo che ha visto su in internet la foto della cameretta dove dormono le due bimbe sue ma per forza ci aveva messo le videocamere di sorveglianza no quelle di controllo che probabilmente chissà come erano configurate sul router e di conseguenza qualcuno era riuscito a carpire le immagini dentro in casa di questa donna shodan fa questo shodan permette di individuare qualsiasi dispositivo connesso alla rete è ovvio che peggio configurati sono più shodan trova shodan trova televisori smart tv shodan trova beh router ne trova quanti router e di conseguenza se uno ha anche la chiave che ne so della vulnerabilità di un router trova quanti ce ne sono nel in internet da poter provare ad attaccare per esempio posizioni frequenti questa anche una cosa che mi ha mi ha mi ha sorpreso perché poi sti puzzoni dei telefoni dei produttori dei telefoni non è che avvisano io l'iphone no l'iphone ho scoperto che ha una bellissima opzione dentro la dentro le impostazioni di privacy che è posizioni frequenti con android succede la stessa cosa ora se uno non lo sa non la va a disabilitare magari però quando uno lo sa conviene farlo perché se poi il telefono lo trova qualcun altro ce lo prende un secondo che vado in bagno ce lo prende il collega lo prende la moglie supponiamo e queste cose possono possono nascere davvero spiacevoli equivoci perché spiacevoli inconvenienti più che equivoci registra tutto sono stato più spesso più frequentemente in quel posto quando con quale durata grazie va bene quindi ecco io vi suggerisco per chi non sapesse di questa cosa di controllarsi il telefono se attiva o meno la funzione di perché di standard nasce con con la con la con la funzione attiva quindi bisogna toglierla conviene insomma pagina web cookies inevitabile dire che anche i cookies in ogni caso tracciano no quelli di profilazione tracciano le usi le abitudini costumi di tutto degli utenti che visitano le pagine va beh i cookie ve li salto tanto se non è il file di log lo stesso perché anche in file di log che ci sono in internet registrano il nostro passaggio registrano le pagine che abbiamo visto registrano insomma tante attività che rientrano comunque nella sfera privata delle persone c'è stato un allarme del garante della privacy britannico che ha scoperto che c'è una tecnologia che permette di tracciare i movimenti dello smartphone usando il mac address del dispositivo appunto che questa cosa succedeva nei negozi hanno una questa tecnologia che beccava i mac address degli apparecchi vedeva dove dove questi andavano e cosa compravano più spesso e man mano riuscivano a identificare poi quali erano le persone garante della privacy britannico ha detto metteteci un freno perché non è che se io vado in negozio mi becco se ovviamente dove fai acceso mi beccano il mac address e poi mi tracciano in quale scomparto vado o quello che faccio eppure è successo io ogni sul di solito spunto su articoli metto sempre poi link così se volete ve li andate a vedere un 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 bellissimo articolo che che ha fatto che ha scritto sulla stampa carola frediani giornalista molto molto brava e è stato così il tuo smartphone sa tutto di te del tuo futuro ha fatto una infografica dove ha fatto vedere che che ne so alle ore 10 mando l'email vengono registrate ovviamente l'invio dell'email da qualche parte il provider lo sa alle 12 e 30 telefono l'operatore conserva per due anni mittente destinatario il tipo di chiamata la data durata quindi altri dati alle 16 mi connetto a internet mio operatore conserva per un anno quando mi connetto e da dove vado su un sito di e commerce alle 16 e 35 sono tracciata da 15 altre aziende idem quando vado sul sito del meteo decine i tracker anche per i siti dei media quindi ovunque cioè ormai con i smartphone qualsiasi cosa facciamo c'è il rischio e spesso avviene insomma di essere tracciati poi ovvio veniamo tracciati dal provider veniamo tracciati dal sito di e commerce ma veniamo tracciati e questo i governi lo sa vi consiglio un bellissimo documentario che ha vinto il premio oscar nel 2015 che è quello che parla della della storia di snowden con la con l'nsa perché è molto molto bello su questi argomenti ecco infatti dopo le rilevazioni le rilevazioni che poi sarebbe le rivelazioni di snowden sullo spionaggio delle agenzie di intelligence e quelle dello scandalo di hacking team sull'industria privata e controllo online la sensibilità comune verso il problema comunque è aumentata questo è vero c'è c'è da c'è da dirlo dei ricercatori del gruppo di network security dell'et e h del politecnico federale di zurigo e george danezis nella university college di londra ritengono che sia l'infrastruttura stessa della rete per come congeniata del resto è nata senza pensare al problema della privacy o dei dati che venivano insomma della profilazione degli utenti è proprio la rete ad essere propensa alla sorveglianza hanno fatto poi un saggio in cui in cui presentano hornet il nuovo sistema di anonimato che prenderà il posto di tor e che che appunto dovrebbe risolvere questo problema l'idea nuova è quella di avere la protezione della privacy come aspetto integrante della rete internet stessa ora non chiedetemi come ma questa sarebbe l'idea in hornet e in hornet l'idea che provider internet possano integrare questo servizio nella loro infrastruttura digitale offrendo una protezione della privacy più diffusa dovrà sicuramente passare molto tempo prima che hornet possa prendere il posto di tor anche se già hornet ha raccolto l'intressamento di colossi come google swisscom insieme ai governi di svizzera india sembra panama papers avete saputo tutti quello che è successo bene finora finora abbiamo visto un aspetto che è quello legato alla tecnologia quello che sta succedendo al giorno d'oggi è che tanti un aspetto che prima non era collegato alla tecnologia sta entrando diciamo potentemente in rete e quindi aumenta i rischi per chi vuole farsi i fatti degli altri e adesso vi spiego perché ad esempio con la digitalizzazione di tutti i documenti degli archivi pubblici ovviamente pagando quel po che serve ma archivi come il catasto è online se io mi registro posso andare a vedere e so il nome un cognome di una persona e magari dove di quale comune abita riesco a vedere che immobili ha tutte le proprietà che ha semplicemente stando senduto a casa mia idem per le informazioni societarie una volta si doveva andare in camera di commercio adesso col cerved uno si abbona o paga il singolo servizio e può sapere quanti soci ha un'azienda che fatturato ha fatto qual è il suo bilancio eccetera 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 le sue sedi e quindi tante informazioni protesti pregiudizievoli e altro ci sono siti specifici per lo più dietro c'è un'agenzia investigativa che ha una un che ha comprato dei servizi presso gli enti preposti ma pagando il servizio si riesce a sapere se una persona è protestata si fa una visura camerale ma e questo una volta si faceva andando nei singoli uffici ma non solo nel comune dove la persona risideva adesso si può fare semplicemente da casa punto importante voi sapete che se io voglio so il nome il cognome e almeno una data di nascita di una persona e della zona e del comune insomma dove abita posso arrivare ad avere uno stato di famiglia oltre che di residenza liberamente senza problemi pagherò i bolli pagherò pochi piccoli pochi spiccioli e posso farlo perché sono archivi pubblici l'anagrafe e lo stato civile sono archivi pubblici una volta per fare questa cosa si doveva andare nel comune dove la persona risiedeva tanti siti adesso tanto mai più che siti tanti comuni stanno mettendo online questa cosa per cui milano ad esempio se anche tu non sei di milano chiunque tu sia ti registri ma puoi fare lo stato di famiglia o lo stato di residenza di un di uno che abita a milano cosa ti serve ovviamente per questo vi dicevo prima attenzione a cosa si pubblica e soprattutto il i dati che servono per individuare una persona se io ho il mio nome cognome su facebook ma ci metto la data di nascita e dove abito è sufficiente per poter chiedere uno stato di famiglia in un comune ok e con uno stato di famiglia io scopro dove abiti perché c'è anche insieme anche la residenza ma anche chi abita con te quindi questo la gente non lo capisce e tranquillamente ah che betto così mi fanno gli auguri di compleanno sì ok ma ti fanno anche altri auguri se volessero ti vengono sotto casa e fanno quello che vogliono vedete che infatti certificati anagrafici gli estratti e certificati di stato di famiglia possono essere richiesti da chiunque anche se anche se intestati ad altre persone vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici o tramite il servizio di recapito a domicilio il sito del comune di milano ok e sempre di più andranno i comuni in questa direzione perché sono servizi utili alla cittadinanza e anche perché comunque hanno l'obbligo di digitalizzare i documenti altra cosa l'aci sul sito dell'aci non so se sapete ma se io vedo una targa per strada vado sul sito dell'aci pago 8 euro ma vedo di chi è la macchina vedo nome e cognome dove abita ok e questo anche mentre una volta bisogna andare al pra al pubblico registro automobilistico ottenuto dall'aci ma in loco quindi in zona e di solito poi uno non lo faceva adesso se uno vi fa un dispetto con la macchina e volete date sul sito dell'aci e se avete la targa potete scoprire di chi è la macchina e dove abita questo non c'è della targa ma si sa bene fattore umano e stiamo per chi e stiamo per chiudere finora quindi abbiamo visto quelle che sono le tecniche con cui si può arrivare a ottenere delle informazioni di persone e aziende vediamo perché possiamo arrivare al di là degli archivi pubblici che essendo tali devono per forza farlo per cui devono comunque mettere in rete quelle che sono informazioni che ci riguardano purtroppo però sono sono elenchi pubblici per cui ahimè ma non facciamoci del male da soli andando a mettere noi degli altri dati su su magari sui social sul nostro sito eccetera è enorme la quantità di informazioni ci riguarda che pubblichiamo sui social comunque in internet non è da considerare quello che diffondiamo che mettiamo oggi ma è quello che abbiamo messo da quando abbiamo messo facebook ad oggi per fare un profilo di una persona non si guarda il posto che ha messo oggi e basta si va a scorrere la bacheca si va fino in fondo e si potrà sapere quali sono gli amici quale cosa ha scritto dove è stato in vacanza e tutte altre cose fortissimi quelli che scrivono vado in vacanza un mese che bello vado alle hawaii vai dopo tornano e si trovano a casa svaliggiata strano extra si i ladri ringraziano no e data di nascita foto della visuale della terrazza con la geolocalizzazione che ha pubblicato entusiasmo la foto della patente appena presa tanto sulla patente non c'è scritto niente vero no è chi vuole farci del male chi vuole rubarci in casa vuole tracciare un nostro profilo completo per attuare del social engineering perché poi attenzione con le informazioni che si carpiscono ad esempio da facebook o da twitter da qualsiasi social o da un sito si può attuare quello che è social engineering per cui io posso che ne so so che ti piace andare in vacanza alle hawaii faccio finta di essere un'agenzia di viaggio ti chiamo dico sai ho un pacchetto promozionalissimo per andare alle hawaii tu e la tua passione magari ci caschi ma questo è niente le agenzie di intelligence questo fanno le agenzie investigative questo fanno le forze dell'ordine questo fanno ma non molto più possono fare ancora molto di più e boh i problemi di fondo sono noi esseri umani dimentichiamo internet no una volta che abbiamo messo una roba su internet la ci resta viene fuori poi quello che è il il grosso problema del diritto all'oblio perché se io sono stato supponiamo condannato dieci anni fa se vai a cercare oggi il mio nome ancora compare perché magari c'è l'articolo lì io avrei diritto in teoria no di cacchio e passo passati dieci anni ne sono uscito basta eh deve la gente deve ancora sapere magari quello che mi è successo e quindi magari farsi un'idea che non è più quella che è di me adesso no quindi questo è un grosso problema attenzione perché infatti pubblicare si fa presto ma poi fra dieci anni come dice la canzone di la canzone i bambini nostri un domani cioè scopriranno che forse i genitori si andavano a ubriacare tutti i venerdì o che ballavano eh eh su su sul cubo che ne so capito quindi questo è il problema e anche perché anche la tecnologia migliore può cadere sotto comportamenti umani errati ma non solo già la tecnologia di per sé può essere vulnerabile se in più è mal configurato vuol dire che quello che in teoria dovrebbe restare eh al sicuro non lo è più perché è pubblicato magari in internet concludo facendovi vedere cioè questa è fortissimo hanno creato una pagina facebook chiamata foto patente mozzecane mozzecane è un comune di verona si sono ingegnati dire dai mettiamo tutti la foto della nostra patente ora qualcuno è stato intelligente e ha messo magari solo la foto e qualche dato viene per cui si vede che ne so in residenza mozzecane via maria ausiliatrice vabbè io so il nome cognome perché è c'è qua ok nome cognome qua c'è la la città e qua c'è la via già ho qualche informazione interessante questo si è superato un po di più perché ha messo anche le date di la data di nascita è cacchio e scusa esso che è di mozzecane so dove abita e c'è anche la data di nascita ce l'ha io se vado in anagrafe riesco a avere tutto di lei e questo è questa la meglio di tutti perché ha messo tutto per cui nome luogo di nascita città residenza la firma anche la firma se voglio fare un documento a nome suo posso anche copiare la firma ok il numero di patente rilasciato da chi ecco questo è questo è niente di quello che in realtà si vede oggi in internet ho messo i due link di dove ho preso due foto che vi ho mostrato c'è così per correttezza e io ho finito però spero di non avervi annoiato se avete qualche domanda ciao buongiorno grazie avevo fatti un paio di domande vediamo ho visto che hai criticato alcuni registri pubblici no non è che li ho criticati che mi cioè in senso positivo cioè hanno certi meccanismi certo certo è stato molto corretto non hai mai detto è sbagliato è giusto ti sei limitato a dire a me non piace l'altro ieri dovevo fare il giro delle sette chiese oggi il problema potrebbe essere massivo nel senso che se mi scarico 56 milioni di record e faccio un'analisi faccio qualcosa che ieri non potevo esatto detto questo il fatto che quei registri siano pubblici a dei motivi anche antichi e che sono alla base di processi molto importanti non hai parlato di surveillance cioè l'idea che se tanto la privacy viene completamente rosa il vero punto è la simmetria informativa qualcuno sa qualcosa di me io non so chi sa qualcosa di me qualcuno può aggregare tanti dati io non ho il controllo dei miei dati ci sono alcuni social che fanno il giochino del tipo se tu vuoi vedere chi ha visto il tuo profilo quando vai su loro vedono che sei andato se vuoi rimanere anonimo non vedi chi ti quello secondo te potrebbe essere un procedimento come dire da implementare a livello anche di pubblica amministrazione io ti do tutti i dati pubblici che vuoi però i dati sono della persona di cui sto parlando e quella persona ha diritto di sapere che tu li hai guardati secondo te questo può essere un processo da mettere in essere guarda per come è fatta ad esempio rilascio dei documenti ma anche online tu ti devi registrare no prima quindi il comune in teoria poi tiene tracciato che io ho chiesto che ne so il tuo stato di famiglia quindi sa chi come quando ma anche fisicamente in anagrafe succede questo quindi esiste sì il problema è questo non credo che anche togliamo internet non credo che ogni stato di famiglia che uno vada a fare di uno di una persona in comune loro avvisino non lo fanno perché probabilmente non sono tenuti non lo so non mi sono mai informato di questo lo fanno per la trasparenza probabilmente che si dice perché un domani un domani se venisse fuori qualche cosa si può risalire ma non ho mai sentito di nessuno che effettivamente è andato a dire chi ha chiesto e non so neanche se te lo danno chi ha chiesto informazioni su di me non so se te lo diano probabilmente si è per come è fatta però probabilmente la rete adesso credo sia difficile che ad esempio se io mi scarico no mi possa arrivare o meglio forse dall'ente stesso da cui scarico sì tu dici potrebbe essere un'idea che ne so io chiedo al comune lo stato di famiglia lo stato di famiglia che a cui di quella persona che so gli mandano a mail guarda che questo bisognerebbe capire la razio del perché questi registri sono pubblici e del perché bisognerebbe capire realmente però sarebbe forse con la tecnologia adesso è ancora più facile sicuramente sì però anche se uno ha la possibilità di implementare questa cosa qua nel momento in cui io mi registro in modo fraudolento con una carta di carito rubata o cose così falsificando la mia identità diciamo vabbè informo il signor Mario Rossi che qualcuno è andato a chiedere il suo stato di famiglia punto è vero non è che si riesce poi a risalire a chi effettivamente è stato secondo me sicuramente sì è che lì entriamo però in un'ottica che poi sai è di criminalità per cui la criminalità è sempre un passo avanti fondamentalmente per cui quello penso a cui diceva il nome Alberto era qualcosa che era estraneo dal fatto della criminalità e di norma si potrebbe fare perché potrebbe essere un mio diritto sapere che tu hai chiesto il mio stato di famiglia però mi viene in mente non è neanche detto questo perché supponi chi fa delle accertamenti che devono restare nascosti tu supponi anche l'attività che fa l'investigatore privato probabilmente deve deve saperlo il comune che magari io l'ho fatto per le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria ma non per dirlo alla persona da cui le ho chiesto forse questa è la chiave giusta di lettura perché devono essere garantiti quei soggetti che fanno gli accertamenti tutelati dalla legge capito quindi allora dopo a quel punto diventerebbe difficile distinguere chi lo fa chi non lo fa cioè è un passo ancora in più no 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 ma infatti è vero bisognerebbe si potrebbe implementare sì 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 no solo detto è un po più complesso ancora perché poi bisognerebbe io ti dico questo sì ma te lo devo provare quindi poi ti dovrei anche dare il documento che sono un investigatore no e so aspetta non solo perché l'investigatore non può fare niente se non su incarico di qualcuno l'una e mezza no hanno fame ciao domanda velocissima tu hai parlato del progetto hornet e che ci sono già delle big che si sono interessate per per supportarlo ma va un po' contro la loro la loro intenzione di collezionare dati cioè non è che si chiede al tacchino di anticipare il giorno del ringraziamento che senso ha quindi che delle delle big si interessino a un progetto che le vite inviterebbe a loro stesse di collezionare dati su di noi perché devono fare devono fare la bella faccia e poi probabilmente non lo faranno e questo forse fanno le big perché non possono dire no 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 capito devono dire sì bello bellissimo ci mettiamo tranquilli col con l'opinione pubblica poi tanto di fondo lo facciamo ma del resto l'nsa il governo è andato avanti americano è andato avanti una vita a dire che non è vero che faceva quello che snowden ha detto quindi è questo il problema c'è anche da dire che una multinazionale può essere interessata a che l'utente possa essere tracciato solo da loro usando i loro servizi e non da altri è certo l'ultima domanda ok l'ultima domanda ragazzi scusate il tempo stringe ciao sai se esistono delle tecniche analoghe alle google docs per il dark web lì entriamo un argomento molto particolare secondo me sì però ma esistono ecco vai vai avevo letto un abstract di un articolo pubblicato poco tempo fa che alcuni ricercatori avevano fatto questo sistema di machine learning per trovare zero dei nel deep web nel dark web quindi qualcosa c'è magari non è così pubblico come google le ricerche su google però qualcosa c'è e comunicazione di servizio dovete correre se volete pranzare al login a prendere i token è Grazie